Andiamo a scoprire insieme le novità Olympus. Le fotocamere Bridge di Olympus sono sempre fatte notare per l'estensione del loro zoom. L'ultima proposta, la Olympus SP570UZ, sfoggia uno zoom 20x, di focale equivalente 26-520 mm. Il sensore utilizzato offre 10 megapixel di risoluzione. Per evitare il mosso, la fotocamera offre il sistema Dual Image Stabilization. Molto simpatico lo stile scelto per la dimostrazione della resistenza delle nuove MIU USB. Si tratta di due fotocamere da 8 e 10 megapixel, con zoom ottico 3 e 3,6x. Sono impermeabili, resistenti alle cadute e la MIU 1030SW è resistente allo schiacciamento fino a 100 kg. Le vediamo inglobate in un blocco di ghiaccio o cadere in acqua dopo un percorso a ostacoli. Anche la Reflex E3, la flagship di caso Olympus, è stata messa a dura prova. La vediamo insabbiata in uno scenario simile al deserto del Nevada, che circonda Las Vegas.